Esiste la lettura specificamente rivolta al pubblico dei bambini. Questo può avere un ambito familiare, quindi leggiamo ai nostri figli, nipoti, ma anche può essere svolta nell'ambito di occasioni pubbliche. Pensiamo per esempio a specifiche iniziative che si svolgono per esempio all'interno delle biblioteche. Il pubblico dei bambini necessita di una particolare attenzione nella forma della lettura. Noi dobbiamo coinvolgerli e soprattutto possiamo concederci di esagerare un po' nell'uso di toni, nel cambiamento di ritmi, nell'essere particolarmente immaginifici, perché il più delle volte leggiamo loro fiabe o comunque una narrativa favolistica. L'importante è che pur non seguendo quella regola della misura, che può invece essere un suggerimento da seguire nella narrativa letta agli adulti, noi cerchiamo di mantenere lo stesso tipo di energia. Per esempio, facilmente nel leggere una fiaba, noi ci inventiamo una storpiatura nelle voci dei personaggi, una storpiatura che caratterizza determinati personaggi. Ecco, lì è importante che noi nel mantenere alta l'energia della nostra lettura, manteniamo anche alta la concentrazione che ci consente di riprendere in un altro momento del testo la stessa caratterizzazione del personaggio che abbiamo dato all'inizio. Questo perché i bambini sono un pubblico particolarmente attento.